Questi bambini riuniti sembrano come un arcobaleno e danno molta gioia al cuore. L'importanza della FISM è proprio quella di coordinare le varie attività delle diverse scuole proprio perché insieme si può realizzare qualcosa di molto importante e di molto prezioso proprio per una educazione completa di questi bambini. E quindi davvero non solo è motivo di gioia ma è anche motivo di impegno perché tutto questo possa realizzarsi.